salve amici e amiche ieri poco dopo aver pubblicato l'ultimo video sono incappato in questa intervista molto interessante che secondo me vale la pena di essere riportata e tradotta per voi penso che possa essere un'altra valida aggiunta dopo l'intervista all'istruttore americano di f16 così mi ero messo a tradurla anche perché gli americani spesso si mangiano le parole e il traduttore di youtube non funziona così fra un caffè e una granita e mentre mi fermavo ogni tanto per leggere i vostri commenti mi ha colpito quello di antonella che mi ha chiesto ciao enrico desideravo chiederti che è lo stratega che porta avanti i miseri avanzamenti russi e se questa tattica ha solo lo scopo di logorare l'esercito ucraino in previsione di attacchi più consistenti in un prossimo futuro che dire antonella è un veramente un'ottima domanda diciamo che per rispondere a questa domanda ho colto la palla al balzo proprio perché l'intervista che vi presenterò oggi mostrerà uno spaccato delle forze armate russe che ci aiuteranno a capire proprio la situazione e poi per rispondere direttamente alla tua domanda bisogna affrontare il discorso dei vertici militari russi e penso che quello che so per dire ci dà un po un quadro anche aggiuntivo la risposta breve a questa domanda ovviamente è putin è lui il comandante in capo delle forze armate su tutti poi immediatamente sotto di lui c'è il ministro della difesa andrei belusov un fedelissimo tra l'altro è stato appena nominato non ha nessuna esperienza militare è un economista un tecnico dei bilanci per intenderci è stato nominato dopo il siluramento di shogu per quella che è stata una delle tante purghe nei vertici militari russi però non è chiaro perché putin abbia voluto silurare letteralmente il suo migliore amico che oltre a collezionare sassi è anche indagato per crimini di guerra presso il tribunale internazionale dell'aia in ogni caso il nuovo burocrate economista al ministero della difesa si sta dando da fare facendo il giro dei reparti nella capitale e raccomandandosi personalmente in discorsi molto perentori ci sono i video nella televisione russa che appunto testimoniano quello che sto per dire fondamentalmente ferma i soldati nelle linee logistiche e dice testualmente mi raccomando è fai arrivare le casse in tempo e non rubare sotto il comando diretto di putin e del ministro della difesa poi ci sono i primi veri vertici militari della situazione primo fra tutti valeri gerasimov che possiamo identificare come uno dei principali strateghi in senso militare della guerra di invasione in ucraina la sua carriera militare è iniziata fin da giovane avendo avuto sempre l'aspirazione di farne parte durante l'era sovietica ha fatto parte di varie divisioni corazzate in polonia per poi scalare le gerarchie militari e diventare capo di stato maggiore dopo aver frequentato l'accademia militare e aver partecipato alla guerra cecena ha iniziato la carriera politica come comandante dell'esercito nel 2000 da qui poi sono seguite altre promozioni fino al 2009 come capo del distretto militare di mosca secondo il servizio di sicurezza ucraino gerasimov era il comandante generale di tutti gli elementi delle forze russe dell'invasione della crimea del 2014 nel marzo 2019 valeri gerasimov ha annunciato che mosca stava perseguendo una strategia di azione limitata in siria che sperava potesse guidare la futura azione militare a quel punto si trattava di una descrizione di azioni che avevano già avuto luogo negli anni precedenti e più precisamente quella strategia rifletteva un ritorno ai metodi sovietici e zaristi delle guerre limitate atte all'occupazione di territori il 9 dicembre 2021 gerasimov ha lanciato un avvertimento al governo ucraino di non risolvere la guerra del donbass con la forza e poi ha affermato tranquillamente che le informazioni sulla presunta imminente invasione dell'ucraina da parte russa erano una menzogna così gerasimov è stato poi coinvolto nella pianificazione dell'invasione russa dell'ucraina nel 2022 le fonti più accreditate dicono che la decisione di invadere l'ucraina è stata presa da vladimir putin e da un piccolo gruppo di falchi belligeranti attorno a lui fra cui gerasimov il precedente ministro della difesa russo sergei shogu è il consigliere per la sicurezza nazionale nikolai petrushev secondo l'autore e analista politico britannico anato lieven non solo shogu e gerasimov hanno pianificato e condotto l'invasione dell'ucraina con mostruosa incompetenza avventatezza e indifferenza verso le morti e le sofferenze dei civili ma poiché entrambi hanno mantenuto le loro posizioni attuali dal 2012 hanno anche la diretta responsabilità personale per il caos logistico la mancanza di coordinamento e le condizioni generalmente deplorevoli delle forze armate russe l'undici gennaio 2023 il ministro della difesa russo sergei shogu ha nominato gerasimov al posto di sergei shukin comandante generale della guerra contro l'ucraina surovkin fungerà da quel momento da vice di gerasimov il suo primo ordine di battaglia degno di nota nel teatro ucraino fu quello di schierare la flotta del mar nero fuori dal porto di novorossisk nell'aprile 2023 l'analista militare americano mikael kofman ha affermato che gerasimov sta esaurendo le forze con una serie di operazioni offensive inopportune e inadeguate i cui guadagni non cambieranno il quadro strategico per la russia ma potrebbero lasciare le forze russe molto più vulnerabili nel maggio 2023 gerasimov e shogu furono accusati di incompetenza dal capo del gruppo della wagner prizovkin il 5 maggio 2023 prigozin li ha incolpati per decine di migliaia di vittime della wagner dicendo shogu gerasimov dove sono le munizioni i soldati sono venuti qui come volontari e stanno morendo così voi potete sedervi come gatti grassi nei vostri uffici di lusso il 23 giugno 2023 prigozin lanciò una ribellione di breve durata del gruppo della wagner marciando verso mosca da rosto sul don l'8 luglio il blogger ribar ha riferito che grasimov è stato sostituito da mikhail teplinsky al comando delle truppe in ucraina pur rimanendo capo di stato maggiore nel luglio 2023 il generale ivan popov affermò che grasimov lo aveva licenziato a causa delle sue preoccupazioni per le truppe che combattevano senza sosta e dalle critiche alla strategia russa sul campo di battaglia ha poi accusato indirettamente grasimov e il ministro della difesa sergei soju di tradire i soldati russi sul campo di battaglia non fornendo un sostegno sufficiente e ha sollevato dubbi sulla mancanza di combattimenti contro batteria sull'assenza di stazioni di ricognizione e sulle morti e i feriti di massa fra le file russi nell'agosto 2023 i funzionari statunitensi stimavano che il numero totale di soldati russi e ucraini uccisi e feriti durante l'invasione russa dell'ucraina fosse di mezzo milione di individui alla fine del maggio 2024 il vice capo di stato maggiore russo gherasimov è stato il vice di gherasimov è stato arrestato per corruzione e ciò è avvenuto dopo l'arresto di timur ivanov poco prima del quinto insediamento di vladimir putin il 7 maggio e il conseguente rimescolamento di shoku che ha portato nevskin a speculare su un'epurazione all'interno dell'esercito russo il 25 giugno 2024 la corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto nei confronti di gherasimov con l'accusa di presunti crimini di guerra per gli attacchi missilistici contro le infrastrutture energetiche ucraine bene quindi questa è la storia in ordine cronologico dello stratega e delle attività di questo personaggio dall'invasione dell'ucraina fino ad oggi che fino a pochi mesi fa era insomma personaggio a braccetto con shoku apparentemente insomma sembra essere un soldato formatosi nel corso del tempo e di lungo corso ma i risultati che vediamo sono quelli che sono quindi questo è ma ora vediamo la parte più importante del video di oggi a proposito prima che mi dimentichi vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto qui sotto al video trovate tutti i pulsantini di youtube per darmi una mano se volete e permettermi di continuare con il mio lavoro come dicevo oggi vi porto un'intervista che penso possa aiutare ad avere un quadro più completo della situazione delle forze armate russe e del loro piano di azione e l'intervista a chuck farer per il kiev post è uno dei più famosi autori ed analista militare americano comandante di squadra di un reparto di navy seals oggi in pensione ha fornito una prospettiva unica sulle capacità e il modus operandi dei reparti corazzati e fanteria russa in più ha parlato di strategia e i futuri piani russi secondo lui nella sua breve intervista al kiev post se masticate un po con inglese vi linko l'indirizzo in descrizione penso che questa intervista valga centomila volte di più di qualsiasi altro video degli analisti italiani di noi altri ovviamente non mi riferisco a chi fa bene il suo mestiere ma a quelli che hanno dimenticato o non hanno mai saputo cosa significa fare giornalismo e analisi militare quindi il tema da cui prende spunto l'intervista è l'offensiva russa di novo roisca che è stata fermata dalle forze ucraine di questi fatti sono circolate molte immagini della decina di mezzi distrutti fra carri armati e mezzi corazzati 11 in tutto per la precisione molti canali youtube ne hanno parlato quindi per sintetizzare quello che è successo è che i russi a un certo punto hanno messo insieme più di una cinquantina fra carri armati e mezzi corazzati e si sono lanciati in avanti ma hanno subito il fuoco di sbarramento ucraino hanno perso 11 mezzi e quindi a quel punto il resto della formazione si è ritirata questa è la storia quindi dobbiamo leggere questa intervista in funzione di questo caso soprattutto chuck farer dirà delle cose totalmente tanto serie e importanti che ho deciso di tradurlo quasi alla lettera oggi senza commentare poi alla fine del video farò alcune considerazioni ma oggi lascio aperta la discussione primo perché sono interessato alle vostre reazioni nei commenti e secondo perché io non sono così esperto di fanteria e movimento a terra diciamo così iniziamo jason smart è l'intervistatore pone subito una domanda a chuck e gli chiede chuck tu sei stato un comandante di squadra nei reparti speciali americani in heavy seals e hai seguito molto da vicino la guerra in ucraina per tutti e due gli anni e mezzo di conflitto ma ieri qualcosa ti ha particolarmente colpito non è vero sembrava che i russi avessero intenzione di fare un grande passo avanti a novo risca e le cose però non sono andate esattamente come speravano puoi raccontarci qualcosa di quello che è successo chuck a questo punto risponde sì non è stata una bella giornata per i russi e all'inizio sembrava il contrario che gli ucraini sarebbero stati sopraffatti come sai seguo queste vicende molto da vicino con informazioni che ricevo quasi in tempo reale e aggiornate sulla mappa questo fatto è successo a novo rivca che è sui limiti occidentali del donensk in prima linea la 79esima brigata ucraina ha visto movimento al mattino per quella che sembrava una vera e propria operazione su larga scala circa 57 veicoli corazzati che trasportavano circa 200 soldati ed era stato tutto preceduto da circa 12 motociclette la brigata ocareina non stava di certo dormendo quando ha visto questo attacco arrivare e visti i numeri in campo per quanto ne so potrebbe essere stata la più grande offensiva russa degli ultimi sei mesi ma quando è avvenuto il primo contatto perché come ho detto la 79esima aveva avuto abbastanza preavviso da prepararsi a riceverli ha distrutto subito sei carri armati e sette mezzi blindati molte delle motociclette anche erano state distrutte ora con questa quantità di perdite fra le file russe con un totale di 57 veicoli perdendo sei carri e sette mezzi blindati e qualche motocicletta uno direbbe ok ne avevano altri 40 che potevano ancora avanzare giusto ma dopo i primi colpi ricevuti e le prime perdite i russi si sono letteralmente voltati indietro e hanno iniziato a scappare la fanteria è saltata giù dai veicoli e ha iniziato a correre via e l'attacco così è stato interrotto da quel momento in poi la 79esima bergata ucraina ha continuato ad attaccare con droni fpv e il fuoco dell'artiglieria diretta ha poi ulteriormente seminato il panico disperdendo l'attacco russo e quello che è interessante per me è che sai ho affrontato altre volte il tema dell'inefficacia delle forze armate russe e capita molto spesso che gli attacchi dei russi vengono condotti in numero ben superiore alle forze ucraine sul campo in un rapporto anche di 10 a 1 ma non sembrano guadagnare terreno sulla base di questa proporzione numerica favorevole prima di questo attacco per mesi i russi inviavano un plotone alla volta piccoli gruppi con una diminuzione del combattimento su una scala molto piccola e noi sospettavamo problemi con il morale delle truppe che certamente ne abbiamo visto ampiamente i suoi effetti sul campo ma il fallimento di questo attacco con una forza soverchiante numericamente da parte russa e fra l'altro questa volta avevano anche dei mezzi adeguati mostra che il morale è spaventosamente a terra e determina profondamente l'efficacia del combattimento delle unità russe senza contare poi che il genio che ha organizzato questo attacco lo ha lanciato in pieno giorno non di notte dove avrebbero potuto avere qualche possibilità di successo cioè perché farlo alla luce del giorno questa è stata una grande sconfitta e l'abbiamo guardata accadere davanti ai nostri occhi praticamente dal vivo ci sono moltissimi video e post che ne parlano puoi vederli tu stesso l'intervistatore a questo punto chiede quindi se una sconfitta del genere fosse capitata a te alla tua unità se tu fossi stato al comando di quella unità e l'esercito americano si sarebbe trovato nella stessa situazione in rotta di collo seppure in superiorità numerica che tipo di conseguenze ci sarebbero state per te o per chi ha organizzato l'attacco chuck risponde a questo punto beh ecco il punto è che in qualsiasi unità della nato le vittime iniziali se parliamo di quattro o cinque carri armati e altri tanti mezzi d'assalto verrebbero considerati una perdita sostenibile era il tipo di danno che potevi aspettarti dallo scontro a fuoco con il nemico alla fine la cosa più semplice al mondo da fare in un campo da battaglia e attaccare andare avanti sai che il nemico è lì e ti dirigi verso di lui la cosa più difficile da fare invece in un'operazione militare è quando il tuo attacco va male quando diventa sanguinoso quindi devi spingerti in avanti lo stesso e tutte le persone devono lavorare insieme le unità che sono in difficoltà devono essere rinforzate le unità più veloci devono prendere il nemico ai fianchi quello che sto dicendo non è niente di eccezionale è una tattica basilare sono le nozioni basiche dei movimenti delle truppe a terra quindi anche negli assetti americani ci sono carri armati pesanti i veicoli corazzati è l'equivalente di un piccolo mezzo con una mitragliatrice scusate passa la motocicletta nel post quindi anche nei negli assetti americani esistono forse genere con mezzi pesanti mezzi leggeri e mezzi più veloci dopo aver subito le prime perdite se tutto il grosso si sarebbe ritirato il responsabile sarebbe stato immediatamente sospeso dal comando sollevato dal suo incarico e portato davanti a una corte marziale per non aver fatto il suo dovere la spiegazione più ovvia per quello che è successo è che le forze russe non hanno coesione e questo spiega perché è più facile per loro inviare un piccolo gruppo o un plotone alla volta in battaglia mentre hanno difficoltà a concertarsi quando sono in tanti perché non possono operare in un ambiente multilaterale non hanno capacità integrate tatticamente insomma sono mal gestiti mal comandati male addestrati sono mal guidati e il loro morale è a terra non è una bella cosa il giornalista a questo punto gli chiede ho letto che all'inizio della guerra la russia ha perso qualcosa come l'ottantasette per cento dei soldati che aveva quando è iniziata l'invasione e quindi oggi le nuove persone che vengono inviate in battaglia sono meno esperte e meno addestrate di quelle che la russia aveva inizialmente chuck risponde sì io penso che questo valore potrebbe essere anche più alto della stima che hai detto e inizialmente non sapevo se crederci o meno ma l'intelligence britannica che ha fornito questi dati numerici attraverso il ministero della difesa è attendibile estima che la russia abbia iniziato l'invasione con un numero compreso fra i 400 mila e i 500 mila soldati in due anni e mezzo di conflitto le stime pubblicate parlano di qualcosa come 400 mila vittime quindi significa che chiunque abbia invaso due anni fa l'ucraina ora è morto nel mese di giugno e luglio 2024 la russia ha perso qualcosa come 70 mila uomini questo significa che la russia ha perso negli ultimi due mesi quasi il doppio dei soldati americani morti in dieci anni di guerra del vietnam e poi i soldati caduti sono sostituiti da altri ancora meno addestrati sappiamo che un cittadino russo qualsiasi senza casa e soldi passa dall'essere raccolto per strada o dalla metropolitana di mosca direttamente al campo di battaglia viene semplicemente messo su un autobus e tre settimane dopo è in ucraina quindi non è addestrato poi sappiamo anche che i soldati russi non vengono avvicendati o spostati via dall'ucraina quindi immaginiamo uno dei soldati che è arrivato lì all'inizio del conflitto in qualche modo è sopravvissuto miracolosamente resta comunque un nessuno non è considerato un veterano non prenderà la leadership il suo atteggiamento sarà pessimo di ritardatario che ha imparato i trucchetti per sopravvivere per fare sempre il minimo non è un eroe ma è solo il simbolo di una sconfitta immagina a gestire poi personale senza addestramento e conosciamo il rapporto fra ufficiali sotto ufficiali e soldati nell'esercito russo che è rimasto uguale a com'era nell'esercito sovietico e com'era prima di questo ti presenti lì con la tua nuova sacca e l'uniforme e prendono tutta la tua attrezzatura ti picchiano ti rubano i biscotti che ti sei portato da casa e ti prendi subito le missioni suicide quindi questi metodi e questi atteggiamenti fanno letteralmente a pezzi una forza armata dall'interno intendo dire che il morale non è tutto fra le unità ma è un punto debole del tuo esercito che ne mina l'efficacia l'intervistatore a questo punto gli chiede ok abbiamo visto morire i soldati russi vediamo anche che la russia ha meno forze armate oggi ha meno veicoli e attrezzatura rispetto a prima e anche questi sono cambiati quello che sta usando adesso sono attrezzature più vecchie cosa sta succedendo e lui risponde sì so dei carri armati t54 che vengono inviati al fronte e io non so come commentare questa cosa se non dicendo che il t54 è del 1954 cioè sono carri che circolavano prima che elvis presley diventasse famoso è il tipo di roba che dovrebbe essere parcheggiata in un museo da qualche parte e lo stesso vale per il t62 cioè carro che è uscito negli anni in cui c'era kennedy e anche le loro versioni più recenti il t72 il t80 insomma questi non sono carri moderni non sono carri armati rilevanti la metallurgia è pessima non hanno sensori la loro ottica è pessima e scopriamo che la russia non li sta nemmeno usando come carri armati anche in questo attacco recente che abbiamo commentato questi veicoli vengono usati come artiglieria mobile come cannoni semoventi e non lo sono ovviamente c'è una bella differenza fra un pezzo di artiglieria e un carro armato un pezzo di artiglieria semoventi ha un cannone diverso da un carro armato e fondamentalmente fondamentalmente un cannone di artiglieria spara verso l'alto per lunghe volate in parabola un carro armato spara dritto come un fucile quindi non fanno la stessa cosa c'è un altro problema con l'uso dei loro veicoli corazzati e veicoli da combattimento che definirli corazzati è un eufemismo un proiettile calibro 50 che è un proiettile sparato da una mitragliatrice occidentale attraversa un veicolo corazzato come questi letteralmente da parte a parte alcuni tipi di fucili della fanteria li attraversano e questi mezzi poi sono molto piccoli internamente sono angusti quello che voglio dire è che hanno inventato questi mezzi ma sono fatti piuttosto male possono trasportare truppe ma dentro sono disposte come sardine devi rannicchiarti così capita sempre di vedere i soldati russi seduti sul tetto all'esterno dove sono completamente esposti e vulnerabili ma stare seduti sul tetto dove puoi beccarti un proiettile o un drone è comunque meglio che morire bruciati all'interno quando vengono colpiti quindi gli strumenti sono pessimi l'addestramento è pessimo la leadership è pessima e questo grande attacco fallito non è di grande auspicio per il futuro del combattimento russo quindi in funzione di quanto hai appena detto chiede l'intervistatore secondo te qual è il loro piano voglio dire ieri dopo mesi di piccole unità mandate avanti singolarmente hanno coordinato questo grande attacco che è fallito ma guardando avanti esiste una strategia cosa credi che vorranno fare in futuro chuck risponde so bene che rischio di essere contraddetto e sai che mi hanno sempre insegnato a non sottovalutare mai il nemico ma guardando attentamente le loro capacità e su questo certamente potrei sbagliarmi ma secondo me non c'è un piano russo per vincere la guerra loro non ne hanno uno non c'è una grande offensiva estiva in arrivo con più gruppi e brigate che stanno convergendo verso le città ucraine avvolgendole e assediandole non c'è niente di tutto questo ma tutto si basa su iniziative isolate non hanno un piano generale parte del motivo per cui non hanno un piano è che l'esercito russo non è più capace secondo me di condurre questo tipo di operazioni non possono più condurre grandi operazioni non hanno soldati addestrati per farlo hanno una generazione di ufficiali che sono cresciuti sotto putin e questi ragazzi sono soltanto dei buffoni militari non sono il tipo di ufficiale addestrato e preparato che studia in una scuola di guerra in occidente forse questo non è chiaro per le persone comuni che vivono in occidente ma quando sei un ufficiale tenente o comandante o maggiore nelle forze armate in occidente ti aspetti di avere un'accademia alle spalle una specializzazione un percorso di studi avanzato se vuoi diventare un generale o un ammiraglio devi avere una laurea un dottorato di ricerca qualcosa del genere e chi viene selezionato per quei ruoli e con quei gradi cresce anche per merito e non è così nelle forze armate russe se sei un generale è perché sei coinvolto nella corruzione sai che stai facendo soldi stai vendendo forniture stai facendo quello che fanno tutti gli altri più in alto e più in basso di te quindi putin ha una generazione di ufficiali militarmente incompetenti che hanno scambiato le loro forniture le uniformi i motori il carburante e c'è una grande disconnessione fra l'ufficiale e le ultime leve e ciò dimostra che la capacità delle forze armate russe è estremamente limitata farò un altro esempio a est di kerson l'ucraina è stata in grado di mettere insieme circa 400 uomini sulla riva a sud del dnipro qualche giorno fa si è ritirata da queste posizioni da un piccolo villaggio chiamato crinchi quei 400 ragazzi hanno combattuto contro una divisione aviotrasportata di 20.000 uomini per mesi li hanno combattuti fino allo stremo mettiamola così se fosse stata la 82esima divisione aviotrasportata americana a combattere contro quei 400 soldati ucraini uno dei principali gruppi aviotrasportati americani per intenderci quanto tempo pensi che ci avrebbero impiegato per prendere un villaggio con 30 case molte persone oggi si lasciano ancora intimidire dai numeri e dalle forze armate russe in generale ma se vedi la realtà di questi eventi e li confronti con gli standard raggiunti dalle forze armate della nato ti rendi conto che il confronto fra le forze di terra nato e quelle russe è impietoso e fidati non hanno un piano e non è bello essere in guerra senza un piano e questo è quanto signori quindi l'intervista a jason ferrer finisce qui che posso dire molte delle affermazioni di questo ex comandante del navy sils americano sono secondo me condivisibili avevo già prodotto dei video di analisi sulle forze armate russe e sulle perdite insostenibili il fatto che stanno prendendo i pezzi da museo per mandarli in battaglia il fatto che mandano nel tritacarne persone senza un addestramento è ormai una realtà consolidata voglio dire è pieno di testimonianza riguardo e anche molte delle sue affermazioni hanno dei facili riscontri come per esempio i numeri pubblicati dal ministero della difesa inglese che fra le altre cose sono i dati più accreditati e prudenti sul conflitto anche di questi numeri ho parlato in un mio video precedente insomma tutte le affermazioni che fa sono un altro tassello al puzzle per ricostruire quello che sta accadendo e più si va avanti più diventa urgente fermare la follia dell'uomo nell'altro castello al cremlino insomma è troppo facile trovare riscontri della realtà che ha espresso chuck ferrer in questa intervista perché ci sono ormai centinaia di video che le testimoniano e arrivano fra l'altro dalle fonti più disparate quindi ecco non penso che serva aggiungere altro ora come ho detto all'inizio sono molto curioso di sapere cosa ne pensate nei commenti questa volta quindi a voi la parola detto questo vi devo lasciare che oggi pomeriggio ho la mia guerra personale da fare in riunione condominiale come sempre un abbraccio alla prossima